Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta puntata di Wisp Magazine, nuova stagione, un appuntamento ricco, parleremo di basket, parleremo di ginnastica dolce, parleremo di un progetto per i bambini, punto luce, lo faremo con Tommaso Ricci, benvenuto Tommaso. Grazie Maria, grazie, buongiorno a tutti. Tu coordini la rienfanzia, le scuole, la grande età del Wisp di Genova. Apriamo con il basket perché inizia ufficialmente la stagione, è aperta l'iscrizione alla seconda edizione della Coppa Wisp Genova, prima edizione che ha avuto un bel successo, possiamo vedere anche qualche immagine. Siamo partiti con le iscrizioni per la seconda edizione della Coppa Wisp Genova che prenderà l'avvio nel 2015. L'anno scorso è stato un primo banco di prova, un torneo che è durato dal mese di aprile e poi si è concluso a giugno con la fase regionale di cui stiamo vedendo le immagini. Una buona partecipazione di sei squadre che speriamo si allarghi e possa contribuire a rendere sempre più ampio il panorama del movimento amatoriale della palacanestro genovese. È stato un primo esperimento che è ben riuscito, la sfida sarà riconfermarci su questi passi. Sono allo studio anche nuove formule, modifiche proprio per rendere il campionato più lungo e farlo proprio un vero campionato amatoriale come sono quelli che già facciamo con il calcio, con la pallavolo. La finale regionale ricordiamo vinta proprio da una formazione genovese, il ricreativo Teste Mobili, finale Latte Tiguglio K, abbiamo detto un grande successo, quest'anno i numeri saranno ancora maggiori. Sì, speriamo di sì, appunto il ricreativo Teste Mobili che quest'anno dovrà difendere il titolo conquistato l'anno scorso, sia su fase provinciale che su fase regionale e quindi ci auguriamo che ci siano molte squadre per sviluppare questo bellissimo sport e fare in modo che ci sia appunto un nuovo sbocco per chi non pratica più la palacanestro, ci si vuole avvicinare in maniera amatoriale per giocare. Altra cosa molto importante sono i prezzi che noi cerchiamo di tenere il più popolari ed economici possibili, proprio per dare a tutti l'opportunità di iscrivere la propria squadra, anche a gruppi di amici, a gruppi informali e anche non solo associazioni strutturate come sono magari quelle che fanno attività in federazione. Andiamo a parlare adesso dello sport per la grande età, per l'età matura. Stanno partendo tutti i corsi di ginnastica dolce con lo slogan Benessere in movimento. Tra poco vediamo anche qualche immagine. Tommaso, è il momento giusto per cominciare? Con il mese di ottobre sono ripartiti tutti i corsi nelle nostre varie palestre che abbiamo nel territorio genovese. Non solo, sono iniziate appunto proprio dal primo di ottobre, ieri, altri ne partiranno in questo mese. Abbiamo circa una cinquantina di corsi attivi in quasi tutti i quartieri genovesi. Andiamo da Voltri al Levante, passando appunto per le valli, la Val Bisagno, il centro, la zona di Castelletto, di Sant'Odoro, Euregina, Cornigliano, Sestriponente. Cercando un po' di coprire tutte le zone, dando la possibilità alle persone di svolgere attività fisica non particolarmente faticosa, comunque adatta all'età, diciamo dai cinquant'anni in su. Comunque non ci facciamo grosse barriere in entrata dal punto di vista delle iscrizioni. Spesso vengono anche persone che hanno a ridosso dei cinquant'anni, forse qualche anno o in meno, che però hanno avuto vari problemi fisici durante la loro vita, magari infortuni alle articolazioni, e che l'attività di ginnastica dolce fa bene appunto anche a loro per il recupero, per mantenersi in forma. Cosa da non sottovalutare, appunto l'aspetto sociale dell'attività dal punto di vista economico, perché con una spesa di 16 euro mensili si fa attività due ore a settimana con operatori qualificati che fanno questa attività da anni, sono anche laureati in scienze motorie o ISEF a seconda poi degli ordinamenti, e che quindi sono persone titolate per svolgere questa attività. L'altro aspetto è quella, la possibilità di incontrare altre persone, di uscire di casa e avere un'occasione in più di socialità che per le persone meno giovani spesso rischia di venire a mancare. Attività motoria molto importante e fondamentale, la ginnastica dolce l'abbiamo visto, certamente indicata per l'età un po' più avanzata, ma è anche divertente, quindi poi torneremo a vedere quali sono le sedi, perché siete davvero radicati su tutto il territorio, quindi non sono problemi anche di vicinanza, insomma ogni quartiere ha le sue possibilità. Andiamo ora sul nostro portale, telenord.it, che è sempre aggiornato con le notizie che vi riguardano. Un campionato del lavoratore, il traguardo storico della quarantesima edizione. Allora parliamo proprio di questo, perché è un traguardo davvero storico. Un compleanno importante, quello del campionato A11 del lavoratore, che come hai detto tu ha festeggiato l'avvio della sua quarantesima edizione. Sono 30 le squadre che partecipano ai campionati, divisi tra Serie A1 e Serie A2. C'è stata la prima giornata lo scorso weekend, lo scorso venerdì e sabato. Da segnalare alcuni risultati anche importanti, tra cui una larga vittoria dell'Aston Villa Barabino & Partners, che ha vinto per 4-0. Si tratta di una squadra che è stata ripescata a seguito della rinuncia di un'altra formazione che si era salvata l'anno scorso nel campionato di A1 e che quindi ha giocato quest'anno il torneo di A1. È un'edizione importante con numeri molto ampi e che testimonia il lavoro che viene svolto tutti i giorni dalla nostra Lega Calcio, dai colleghi Claudia e Alessandro e da tutto il settore arbitrale, che con impegno, passione ed edizione fanno in modo che sui campi ci sia lo spirito giusto, lo spirito WISP di un calcio corretto, lontano dallo spirito eccessivamente agonistico, anche se ovviamente il titolo è molto ambito e prestigioso. Però è importante questa attività che va avanti da oltre 40 anni e che ci auguriamo continui sempre con gli stessi numeri e con la stessa passione di tutti. Leggiamo anche le dichiarazioni della Presidente del Comitato WISP di Genova, Isabella Di Grumo, che è particolarmente orgogliosa, come tutta l'WISP, ma anche grande responsabilità nell'organizzazione di tornei ai quali si lavora praticamente tutto l'anno. Isabella Di Grumo dice Genova soffre la crisi economica, così come avviene negli altri grandi centri industriali del Paese, i problemi sono sotto gli occhi di tutti, il tessuto produttivo si sta restringendo progressivamente, la città si sta trasformando. Così come si trasforma la pratica sportiva, l'UISP non ha mai smesso di stare insieme alla gente, i problemi sociali del momento. A 20, 80 avviene oggi, forse anche per questo, nonostante le difficoltà, il numero di squadre che partecipano al lavoratore continua ad essere molto alto. 30 squadre, 28 giornate di campionato, questi sono numeri davvero importanti da campionato di calcio di Serie A. Certamente. Allora andiamo all'area dell'infanzia, che è di tua competenza, così come la grande età. In settimane hai partecipato a un corso di formazione sul progetto WISP Save the Children, si chiama Punto Luce, possiamo vedere anche qualche immagine e naturalmente spiegare di cosa si tratta. È attivo da maggio questo progetto, il Punto Luce, presso il Circolo Merlino di Sestriponente. Nell'ambito della campagna di Save the Children Illuminiamo il Futuro, che in diverse città italiane, in alcuni centri come per noi il Circolo Merlino, ha attivato e contribuisce ad attivare diverse occasioni di sviluppo del tempo libero per i bambini e del sviluppo delle loro capacità in ambito extrascolastico. Ci sono diverse città nelle quali questo progetto è partito, non solo a Genova, ma anche a Palermo, a Bari, a Gioiosa Ionica, Napoli, Roma, Torino e Milano. Quindi diverse città nelle quali si cerca di contrastare soprattutto la povertà educativa nei minori, rivolte ai bambini dai 6 e ai ragazzi di 16 anni. Quindi si tratta non solo di contrastare quella che è la povertà economica con attività aperte a tutti e anche gratuite, ma proprio di dare diverse opportunità perché i bambini e i ragazzi possano sviluppare le loro capacità e i loro talenti e vivere esperienze positive in posti dove sanno che ci sono adulti che si prendono a cura del loro benessere psicofisico. Ogni città ha un po' la sua specificità. Noi ovviamente in quanto associazione sportiva molte delle attività sono di tipo sportivo. Siamo partiti quest'estate con i centri estivi e ora poi sono partiti i corsi invernali. Abbiamo avuto oltre un centinaio di iscritti a testimonianza del preziosissimo lavoro che è stato fatto in questi anni presso il circolo dai nostri operatori che quotidianamente fanno attività e quindi danno l'opportunità ai ragazzi di stare insieme, di giocare, fare sport e divertirsi. Andiamo anche, oltre a queste belle immagini, possiamo andare sul vostro portale sempre aggiornato con tutte le notizie proprio per parlare di Punto Luce di Genova. Riprendono le attività invernali, sono oltre 100 tra bambini e ragazzi i partecipanti a queste attività. Illuminiamo il futuro, quindi sono tutti i dettagli di Tommaso per capire e sapere come aderire a questo progetto. Sicuramente. Comunque c'è una casella proprio di posta elettronica dedicata alle attività del Punto Luce che si chiama www.lucegenovacchiocciolawisp.it presso la quale scrivendosi possono avere tutte le informazioni sulle attività, su come iscriversi, anche eventualmente puoi proporre cose che possono essere anche realizzate nell'ambito del progetto. E' quindi un'opportunità in più per il quartiere, per il futuro dei bambini e dei ragazzi. Abbiamo parlato dell'attività sportiva, c'è anche un corso di fotografia, lo vediamo. Proprio questa è una delle novità, il corso di fotografia per bambini e ragazze. Torniamo alla ginnastica dolce dedicata agli adulti, alla terza età e anche in questo caso sul vostro portale Wisp Genova ci sono tutte le annotazioni perché abbiamo detto che le vostre palestre sono su tutto il territorio cittadino e quindi si può partecipare, vediamo, le sedi. Sì, divise appunto, le suddivise per municipio, quindi appunto per esempio nel centro-est dalla zona di Sant'Ugo a Principe fino a Oregina, a Lagaccio, appunto poi anche a Sant'Eodoro, Granarolo, abbiamo corsi a Sestriponente, a Sestriponente, Cornigliano, a Pra, a Voltri, in Valbisagno, Bassa e Media, quindi coprendo fino a Molasana, Staglieno, in circonvallazione, nella zona della Foce, anche a Corsi Italia e stiamo anche in contatto con altre realtà per aprire anche nuovi corsi in zone dove attualmente non siamo ancora coperti. Quindi la pagina è appunto in continuo aggiornamento, andandoci periodicamente si possono avere anche informazioni su corsi nuovi ed orari in cui partiranno o sono partiti. Naturalmente c'è l'indirizzo di posta elettronica ma anche il numero telefonico al quale fare riferimento. Con questo concludiamo il nostro appuntamento con WISP Magazine. Ringrazio Tommaso Ricci. Grazie Maria Grazia, buona giornata a tutti. Ringrazio voi dell'attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana. Ringrazio Tommaso Ricci.